E finalmente anche Apple lancia il suo primo alimentatore con doppia porta USB Type-C con una potenza massima di ben 35 Watt e in grado di ricaricare singolarmente ma anche contemporaneamente tanti tantissimi dispositivi con la mela ma lo scopriamo all'interno del video. L'unica cosa che vi chiedo come sempre e per favore è quella di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale senza dimenticare che vi aspetto anche sugli altri miei canali social come Instagram, Telegram ma anche TikTok. Ora sigla, poi andiamo a scoprire il nuovo alimentatore Apple da 35 Watt con doppia porta USB Type-C. Comincio ovviamente il video facendo l'unboxing di questo alimentatore, sarà una cosa velocissima perché è davvero molto molto piccolo, solita linguetta Apple da togliere, apriamo la confezione ed estraiamo il contenuto. Qua ci sono i classici manualetti dove spiegano il funzionamento. Sposto la scatolina e vedete che all'interno troviamo chiaramente l'alimentatore davvero piccolino ma anche la presa compatibile con l'Italia. E ora vediamo com'è, ma davvero mi sembra molto piccolo. Poi tra poco lo mettiamo a confronto anche con gli altri alimentatori Apple. togliamo la solita carta che si è ovviamente strappata, ecco qua, la togliamo via e compaiono ovviamente le due porticine USB di tipo C che sono proprio la novità di questo alimentatore ma andiamo a fare anche lo scartamento del piccolissimo della presa che è compatibile con le nostre prese italiane. Ecco qua, la si inserisce come da tradizione Apple e voilà, ecco qui l'alimentatore da 35 watt dual di Apple, davvero davvero piccolino. Mi ricorda forse i primissimi alimentatori di iPod o anche forse dei primi iPhone. Quindi è davvero molto contenuto e la cosa carina, proprio lo appoggio qui da vedere a confronto con gli altri alimentatori Apple che ho messo qui di fianco e qui c'è il classico alimentatore da 20 watt, quello che probabilmente tutti quanti stiamo utilizzando per la ricarica degli ultimi modelli di iPhone. Lo metto di fianco e vedete che alla fine non c'è poi questa enorme differenza considerando che da questo potremo ricaricare due dispositivi contemporaneamente invece il confronto è chiaramente indecente se lo metto a paragone con l'alimentatore da ben 140 watt che è l'alimentatore che serve per ricaricare i MacBook Pro da 16 pollici. È l'alimentatore più potente che Apple ed è davvero massoso, grande ma ha anche una potenza che è ben di 4 volte superiore al dual da 35 watt, quindi se dobbiamo fare un resoconto delle dimensioni è davvero piccolo e contenuto. Ora che ce l'ho fra le mani, da qualche istante l'ho aperto proprio ora insieme a voi ho notato che ad esempio sulle due parti bianche e laterali non c'è il simbolino della mela come invece avviene in quello da 140 watt, tuttavia c'è sotto insieme alla scrittina 35 watt USB-C Power Adapter di Apple. A chi serve questo alimentatore? Innanzitutto questo alimentatore viene fornito col nuovo MacBook Air M2 ordinando il secondo modello, non quello che costa meno ma la versione che costa leggermente di più è comunque disponibile anche sulla prima variante di MacBook Air M2 quando diventeranno disponibili pagando 20 euro aggiuntivi vi ricordo anche che negli altri modelli di MacBook Pro ad esempio il 13 pollici che è uscito proprio in questi giorni con Sock M2 c'è un alimentatore da 67 watt incluso probabilmente perché il MacBook Pro avendo anche un sistema di raffreddamento diverso ha necessità di un pochino più potenza mentre invece se passiamo oltre e passiamo ai modelli da 14 e da 16 pollici anche il 14 versione base con M1 Pro ha il 67 watt che poi però diventano da 96 watt sui modelli configurati in maniera un pochino più pesante mentre invece tutti i modelli MacBook Pro da 16 pollici hanno il super alimentatore da 140 watt quindi adesso vedremo un pochino com'è l'utilizzo di questo alimentatore come si può mixare l'utilizzo fra loro è chiaro che ad esempio con il mio MacBook Pro da 16 pollici non potrò utilizzarlo per mantenere la carica mentre lo utilizzo e aumentare lo stato di carica della batteria e probabilmente neanche quando avrò un carico di lavoro talmente pesante perché questo mostriciattolo ha necessità di tanta energia come ci dice direttamente Apple in un suo documento di supporto quando andremo a collegare ad esempio sulla prima porta un MacBook Air M2 e sull'altra porta un qualsiasi modello di iPhone o di iPad automaticamente l'alimentatore suddividerà la sua potenza nelle due porte andando a distribuire 17,5 watt per porta quindi avremo la stessa potenza su entrambe le porte la stessa cosa avviene se per esempio nella porta 1 inseriamo un modello di iPhone e nella porta 2 un qualsiasi modello di iPad anche iPad Pro se invece colleghiamo alla porta 1 un dispositivo che necessita di tanta potenza come può essere il MacBook Air ma anche magari un iPhone e un iPad e alla seconda porta quindi alla porta B l'alimentatore per Apple Watch o ad esempio il cavetto che si collega direttamente alle AirPods l'alimentatore in maniera automatica distribuirà sulla porta del dispositivo che necessita di più potenza 27,5 watt e al secondo ne distribuirà i restanti 7,5 così da dare la possibilità di ricaricare più velocemente il dispositivo più esigente di potenza ma comunque senza trascurare gli altri dispositivi che con 7,5 watt si ricaricheranno senza alcun problema come avete visto quindi farà praticamente tutto da solo a differenza di altri alimentatori non ha una delle due porte indicata col simbolino PD che sta per Power Delivery ma potremo scegliere in qualsiasi momento su quale porta attaccare uno o un altro dispositivo cosa costa questo alimentatore? è in vendita solo e unicamente al momento sull'Apple Store Online o altrimenti in uno dei 17 Apple Store sparsi in tutta Italia ad un prezzo di 65 euro non è al momento disponibile su altri store online neanche su Amazon vi lascio il link diretto di Apple qui sotto in descrizione vi lascio anche qualche altro alimentatore magari un pochino più potente visto che Apple per il momento si è fermata ai 35 watt da cui potrete magari comprarlo, vederli, insomma informarvi perché ce ne sono di tanti modelli e io ne ho diversi quindi vi suggerirò quelli che ho realmente provato la speranza è quella che visto questo esperimento di Apple possano in futuro arrivare anche alimentatori ad esempio come questo ben più grande del MacBook Pro da 16 pollici con più porte così veramente ormai da partire e avere un solo e unico alimentatore con noi e ora quello che mi interessa di più ovviamente è sapere cosa ne pensate di questo alimentatore se lo comprerete, se lo aspettavate se siete contenti che finalmente anche Apple ne abbia prodotto uno quindi vi aspetto numerosissimi qui sotto nei commenti quando passate da lì vi chiedo solo e unicamente di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale direi che anche per il video di oggi è davvero tutto vi lascio qua sopra on screen alcuni dei miei ultimi video utilità che vi insegnano a liberare spazio ma anche ad aumentare la sicurezza sia su Mac sia su iPhone io e l'alimentatore da 35 watt Apple Dual vi salutiamo, ci vediamo prestissimo qui sul canale un grande saluto da Francesco ciao